Eccoci. Comodissimo. Guaia! No! Mi chiamo Giorgia Turchato. Siamo i Santi Francesi. In arte Iaco. 24 anni, 25 anni. Ho 21 anni, da poco. 26. Pizza e divano, io tutto la vita. Pizza e divano, sì, sì. Club. Forse più da pizza e divano, più intimità, più comfort. In questo periodo, in questi giorni, di Andrea Lazlo De Simone. It Takes a Fool to Remain Sane, degli ARC. Let It Be, dei Beatles. Uno dei primi album dei Red Hot, tutte quante le loro canzoni. Mi piacciono di sacco. Succederà. Michael Scott, The Office. Yojima, di The Office. Sarei un investigatore. Un detective di quelli che sono stati scartati e poi si mettono in proprio. Star Way to Heaven. Creep, dei Radiohead. L'Ombra della Luce di Franco Bacchiato, perché non posso cantarlo, ma vorrei. Non abbiamo nessun tipo di rito, non c'è mai venuto. È una cosa che quasi mi fa sentire un difetto, però no, non abbiamo riti. Di solito, sbadiglio. Se no mi viene da sbadigliare, proprio cerco di sbadigliare, perché è una cosa che mi fa rilasciare un po' tipo la tensione. Stretching e basta. Quanto tempo ho? Oh mamma. Fai con il cerchio. Ah, bravo. È tipo così. Sono io con la chitarrina. Fantastico. Sai che sembra lontanamente un divieto? È vero, divieto di Santi. Se chiudo gli occhi e penso a quello che potrebbe succedere. Sento tanto rumore. Non riesco quasi a immaginarmelo. No, neanch'io. Vedo buio, però perché ho gli occhi chiusi. Secondo me ansia, io ne ho parecchia, però sarà quell'ansia da trasformare in energia sul palco. Tesissimo. Un vestito da Dio e spero di mostrare ancora di più quello che so fare. A tutti i concorrenti di X Factor. È la musica che ci fa unire e ci accompagnerà in questo viaggio. Ci siamo, non perdiamoci, non disuniamoci e bocca al lupo. Date al massimo sempre. information è sempre. Continua. Un asilo! Grazie a tutti.